Io mi è stato detto che devo fare un'introduzione sulle onde gravitazionali, questa è una conferenza sull'ISA, che è appunto un osservatorio di onde gravitazionali, ma io do per scontato che uno non sappia proprio esattamente che cosa sono le onde gravitazionali e dunque però un corso, tutto quello che volete sapere sulle onde gravitazionali, in 10 trasparenze. Allora, diciamo, bisogna pensare a due cose fondamentali, la prima è che fino a un paio di secoli fa, quando voi guardavate il cielo, il cielo era tutto lì ora, no? Cioè era l'ora del tè, su Saturno, sulla Terra, sul Sole, non sapevamo che la luce viaggia a una velocità finita e quindi non sapevamo che in realtà l'immagine delle stelle che vediamo nel cielo è partita molti anni fa, perché la luce viaggia a velocità finita, a 300.000 km al secondo. Quindi in realtà la vera pittura è che quando voi la notte guardate il cielo, state guardando una sezione dello spazio-tempo. Gli oggetti più lontani sono in realtà nel passato, perché sono immagini che sono partite dagli oggetti e che stanno raggiungendo, mettendoci alle volte, miliardi di anni. Gli oggetti più lontani, la luce viaggia miliardi di anni per raggiungersi. Quindi questa è stata la prima grande rivoluzione nella gravitazione, il fatto che non esiste lo spazio e il tempo, ma esiste lo spazio-tempo. In pratica, quando voi guardate il cielo, guardate lo spazio-tempo. La seconda grande svolta concettuale, tutto questo in gran parte è tutto Einstein, che è avvenuta circa un secolo fa, era la gravitazione, fino a un secolo fa era una forza, una fune, la terra gira intorno al sole perché è tirata da una fune che è la forza di gravità, come il ragazzino lì nell'immagine che fa girare il sacchetto. In realtà Einstein ci dà una pittura diversa che è gravida di conseguenza anche pratica, osservativa, cioè dice, Galileo si era già accorto che se voi non disturbate due piccoli oggetti e li lanciate con velocità uniforme, quelli continuano ad andare con velocità uniforme. Se vi sedete su uno e guardate l'altro, si muove con velocità uniforme o addirittura è fermo. Se però mettete della materia nello spazio, che genera la gravità, quello che succede è che quando i due oggetti si avvicinano all'oggetto pesante, le loro traiettorie curvano, cioè la materia attraverso la gravità curva lo spazio, poi in realtà curva anche lo spazio-tempo, ma in realtà accontentiamoci di questo, curva lo spazio. Il fatto che sia la materia che curva lo spazio e non che tira le singole particelle una per una, si vede in molti modi. Quelli più eclatanti sono che se voi lanciate, qualunque numero di oggetti, qualunque sia la loro composizione. Se voi le lanciate con la stessa velocità, si muovono tutti nello stesso modo nel campo gravitazionale dell'oggetto pesante che sta generando la gravità. L'immagine dell'astronauta che galleggia intorno alla stazione spaziale è perché tutte e due stanno seguendo la stessa orbita, perché quella è la strada curva che si segue nello spazio in quel posto lì. La previsione di Einstein è che è proprio curva lo spazio, quindi anche la luce che segue traiettorie dritte, che segue il cammino minimo, è costretta a curvare quando passa vicino a un corpo denso e noi vediamo questi aloni, aspettate che prendo la matita, vediamo questi aloni di luce intorno alle galassie, questa in realtà è la luce di qualcosa che sta dietro la galassia che è stata deviata nel cammino per raggiungerci e fa una luna, è come nelle lenti, viene chiamata la lente gravitazionale infatti. Riguardiamo questo cartone, quando le due particelle si avvicinano, se vi sedete su una delle due particelle, vedete che l'altra accelera, mentre prima stava ferma, come vi avvicinate al corpo pesante che curva lo spazio, vedete che le due particelle accelerano uno rispetto all'altro e questo effetto è l'unico effetto della gravitazione o della curvatura che potete vedere se la sorgente non si vede, se per esempio la sorgente è nera, non la vedete, non è illuminata, vi accorgete che siete passati in un pezzo di spazio curvo, perché se vi sedete su una delle due particelle libere, vedete l'altra allontanarsi con una velocità variabile, cioè con un'accelerazione. Questo è l'effetto fondamentale della gravità, come ce l'ha descritto Einstein ovviamente con una matematica complicata che gli ha fatto anche prevedere degli effetti che Newton non prevedeva. E allora siamo arrivati, le cose non si propagano più veloce della luce e la gravità curva lo spazio-tempo, allora se qualcuno muove dei grossi corpi celesti, se il Padre Eterno muove dei grossi corpi celesti come queste due galassie in orbita una rispetto all'altro, che è un'animazione dello Hubble Space Telescope che raccorda vere fotografie, la curvatura che loro generano dalla nostra parte cambia, perché sta cambiando la posizione della sorgente, ma niente si può propagare più velocemente della luce e allora questa informazione sul fatto che la curvatura dello spazio sta cambiando e le traiettorie delle particelle devono cambiare, si propaga a velocità della luce. Poi la matematica fa vedere che quando le cose si propagano a velocità finita finiscono per propagarsi per onde. E quindi queste sono le onde gravitazionali, sono la gravità dei corpi lontani che si muove perché i corpi lontani si muovono e questa informazione sul fatto che la gravità sta cambiando viaggia alla velocità della luce verso di noi. E rivelare le onde gravitazionali il modo più semplice è guardare se due particelle, quattro, dieci particelle che sono libere, non le state toccando accelerano una rispetto all'altra. Questo è quindi il rivelatore di onde gravitazionali sono due particelle libere di cui misurate l'accelerazione relativa. Fine del primer sulle onde gravitazionali. Allora perché tutti sti soldi pubblici nelle onde gravitazionali? Perché tutta questa fama e tutta questa stampa, bello, un bellissimo effetto previsto da Einstein, uno li guarda, visto e sì ci sono, ciao. Non è così, è che sono il messaggero astronomico dei sogni di qualunque astronomo. Perché l'universo è sostanzialmente trasparente alle onde gravitazionali, l'interazione gravitazionale è così debole che le onde gravitazionali attraversano la materia praticamente indisturbate. Il che significa che tutte le onde gravitazionali che sono state prodotte da sorgenti che accelerano e che ci raggiungono sono misurabili senza che siano state assorbite dalla materia. Capita che per la luce non è così, la luce, il grosso dei corpi celesti, non è trasparente alla luce. Per esempio le onde gravitazionali sono l'unica cosa che lascia alla superficie un buco nero, la luce non ci riesce perché la gravità è troppo forte. E poi sono analoghe al suono, cioè sono delle queste onde, sono come le onde di pressione che raggiungono le nostre orecchie se qualcuno muove un corpo lontano da voi nell'aria, le onde di pressione dell'aria. Qua è la stessa cosa, cambiate, accelerate i corpi celesti lontani, viaggiano queste onde che, rivelate qui, vi dicono come si stanno muovendo dei corpi lontani, un po' come fa il suono. Infatti il mio amico Bernard Schutz fa questo filmatino qui, che io trovo, dice immaginate andare a passeggio nella giungla senza il suono. La giungla è meravigliosa ovviamente, ma vi manca la vera percezione. Se accendete il suono improvvisamente vedete che una giungla tropicale è popolata da un'enorme quantità di oggetti e per di più riuscite anche a distinguere che tipi di oggetti sono, dove sono, quale tipo di uccello, quale tipo di scimmia, eccetera. Quindi dice la rivoluzione delle onde gravitazionali in astronomia è che aggiungono la colonna sonora all'universo. In realtà è ancora più di così, perché voi sapete che noi vediamo lo 0,4% della materia che compone l'universo. Tutto il resto è o buio o oscuro o, per esempio, c'è la materia oscura, c'è l'energia oscura, tutte componenti dell'universo. La maggior parte dell'universo è formato da cose che non emettono luce, ma che generano gravità. E quindi l'universo è sostanzialmente un posto gravitazionale, la luce è quasi un incidente e molti di questi corpi emettono onde gravitazionali e sono visibili. Quindi è un settore dell'universo che con le sole onde elettromagnetiche non è visibile, non direttamente. Ovviamente vediamo effetti, eccetera, ma non direttamente. Quindi una grande rivoluzione dell'astronomia. Va bene, come si vivevano le onde gravitazionali? Allora ho detto prima, dovete mettere delle particelle in moto, che sono in caduta libera, lasciarle libere, sono le particelle gialle e dovete misurare l'accelerazione relativa di queste particelle. Questo si fa come fa la polizia con la vostra automobile, cioè si fa con l'effetto Doppler. Ti mando un'onda elettromagnetica, radar, un laser, quello che ti pare, l'onda rimbalza su di te, l'onda che torna ha una frequenza diversa dall'onda che io ho lanciato. Se tu stai avanzando verso di me, la frequenza è più alta, se tu stai retrocedendo la frequenza è più bassa, si chiama l'effetto Doppler. Un rivelatore di onde gravitazionali è un misuratore di velocità della polizia molto più sensibile. Io qua ci ho messo una scala, tipicamente state misurando un moto di meno di un nucleo atomico nell'età dell'universo, che è molto lento, più lento di qualunque cosa che possiate immaginare. Cioè la sensibilità è molto elevata, ma il principio è quello, ti mando un'onda elettromagnetica, misura la frequenza di ritorno, se ti muovi io vedo che la frequenza diminuisce o aumenta a seconda della direzione in cui ti sei mossa. E quindi un rivelatore, scusate io devo muovere una cosa, un rivelatore di onde gravitazionali, i rivelatori terrestri sviluppati per 50 anni, anzi per 60, io me ne sono fatti 40 di questi anni, le particelle libere sono degli specchi che pendono dal soffitto, sono messe a grande distanza fra di loro, laigo 4 km, virgo 3 km, e voi diciamo in un certo senso misurate, questa è la macchina della polizia e questa qua è la macchina lontana, che se accelera io vedo il fascio laser con la frequenza modulata. In realtà è un oggetto enorme, questa è una foto di laigo, sono dei tunnel sottovuoto, la luce viaggia a lungo questi tunnel, la ragione di questo è che gli effetti gravitazionali sono tanto più grandi quanto più lontane sono le particelle, tutti questi accrocchi qui sono queste grandi sale sottovuoto, eccetera, e il principio fondamentale è che viene generata una luce qui, diciamo ignorate tutti i dettagli, ci sono due specchi alla fine, se gli specchi accelerano il vantaggio di questa configurazione con due bracci è che io posso paragonare la frequenza che mi ritorna da questo braccio con quella che ritorna da questo braccio senza bisogno di fare una misura assoluta di frequenza e l'unica cosa che conta in un revelatore gravitazionale è il moto relativo l'allungamento, l'accorciamento relativo dei due bracci e quindi diciamo a farla breve si misura la frequenza, si misura l'effetto doppio. E dopo 50 anni e tentativi il 15 settembre del 2015, il 14 settembre del 2015 si è visto questo oggetto qui, questo piccolo segnale qui che però senza ombra di dubbio è un'onda gravitazionale perché è stata vista da due di questi rivelatori messi ai due estremi degli Stati Uniti contemporaneamente. Notate la scala dei tempi, frazione di secondo, questo se lo mandate a un altoparlante sentite un trillo nei kHz che sono udibili. Fatto? Abbiamo visto le onde gravitazionali? Manco per niente, come ho detto prima, abbiamo cominciato l'astronomia perché immediatamente i miei colleghi si sono accorti che questo segnale era dovuto a due buchi neri con la massa 30 volte quella del Sole che hanno spiraleggiato nell'ultima fase uno verso l'altro e poi sono diventati un unico buco nero. Ci hanno detto anche quando è stato, circa mezzo miliardo di anni fa o quindi a mezzo miliardo di anni di luce da noi e da allora in sette anni hanno un catalogo di sorgenti gravitazionali impressionanti. Come molti di noi prevedevano la prima rivelazione delle onde gravitazionali e la nascita dell'astronomia sarebbero stato lo stesso evento perché immediatamente l'oggetto ha cominciato a vederne molti e c'è tutta la statistica e qui è il pane degli astronomi che fanno i cataloghi eccetera. Bene l'ISA però non è a terra è una virgo o laigo nello spazio ci sono le masse di prova di cui uno deve misurare l'accelerazione ma invece di essere messe a quattro chilometri sono messe a due milioni e mezzo di chilometri io devo dire sarà perché l'ISA non è ancora in orbita è in sviluppo. Queste coppie di masse sono contenute in satelliti e quello che sta sviluppando l'ISA dall'agenzia che sta sviluppando l'ISA da oramai decine di anni è l'agenzia spaziale europea in collaborazione con le agenzie dei suoi paesi membri fra cui l'italia molto presente e con una collaborazione della nasa ma il leader è dell'agenzia spaziale europea. Questo rivelatore dove mentre questo rivela onde diciamo nell'audio fra i 100 hertz e kilohertz frazione di secondo a millesimi di secondo di periodo onde molto veloci che sono generate da oggetti piccoli nella fase finale del loro collasso l'ISA vuole vedere onde che hanno che oscillano mettendoci da un giorno le più lente a 10 secondi le più veloci e questo non si può fare a terra purtroppo perché il campo gravitazionale terrestre è rumorosissimo a causa del moto dell'atmosfera e della crosta terrestre quindi intorno a un hertz la terra diventa cieca è un posto troppo rumoroso ma non è rumoroso di vibrazioni o cose così è proprio la gravità terrestre fa troppo rumore per cui bisogna andare nello spazio questa è la ragione di andare nello spazio come si fa a rivelare le onde gravitazionali dello spazio beh si possono usare direttamente due satelliti come le masse di prova invece i due specchi di virgo di laigo si usano due satelliti e diciamo misurare la velocità di un satellite rispetto a una stazione terrestre è una cosa di routine così si si sa dove sta il satellite dove sta andando eccetera ovviamente lisa richiede qualcosa di più per cui l'idea base è quella di avere due satelliti e di prendere un misuratore di velocità non radar ma con laser perché più preciso e misurare la velocità relative di questi satelliti se cambiano se si mettono a oscillare è passato l'onda gravitazionale in realtà anche nello spazio siete costretti a confrontare due bracci a fare come a terra a vedere la distorsione relativa di due bracci perché un braccio solo è troppo rumoroso invece differenzialmente è meno rumoroso per fare due bracci avete bisogno di tre satelliti a quel punto ci mettete anche il terzo braccio quindi questa è lisa tre satelliti che si scambiano un rivelatore che si misurano le velocità relative cercandone delle variazioni temporali c'è una specie di magia nella meccanica celeste per cui voi potete mettere tre satelliti in tre orbite intorno al sole come quella della terra senza fare senza usare senza dover fare correzioni e miracolosamente tre satelliti rimangono in una specie di costellazione triangolare e se ne vanno in giro insieme alla terra intorno al sole per molti anni e la cosa è stabile per una decina di anni questo aiuta moltissimo perché aiuta triangolare dove sta la sorgente quindi è un grandissimo vantaggio dal punto di vista osservativo e questo è lisa ma ci sono un po di complicazioni le complicazioni sono queste allora non so se voi vedete l'animazione non so paolo se tu vedi l'animazione che cambia colore vediamo vediamo sta passando l'onda gravitazionale allora il fascio di luce mandato da questo a questo cambia colore perché c'è l'onda gravitazionale in mezzo e anzi il segnale gravitazionale che questo r non importa è proporzionale a quanto cambia nel tempo la frequenza non alla frequenza ma quanto cambia nel tempo alla sua derivata e poi il segnale è proporzionale alle dimensioni del rivelatore questa è la ragione per cui si cerca di fare il rivelatore più grande che potete però ovviamente come ben sa la polizia si può modulare col fascio di laser anche scuotendo uno dei due satelliti o tutte e due con qualche cosa molto più terra terra che ne so con campi magnetici campi elettrici quindi voi che vedete ho visto le onde gravitazionali non avete visto proprio niente avete visto un disturbo che accelera il satellite quindi la misura si può fare ma dovete essere sicuro che i satelliti non sono disturbati da nient'altro che non siano le onde gravitazionali e purtroppo appena l'isa è nata ci siamo resi conto che se voi mettete tre satelliti in un'orbita più o meno dove siamo noi a unità astronomica al sole la pressione la luce del sole illumina il satellite esercita una pressione esercita una forza questa forza fluttua perché il sole è in fondo un calderone che bolle e queste fluttuazioni scuotono i satelliti molto di più di quello che farebbero le onde gravitazionali interessanti quindi lasciare due satelliti liberi e misurare la loro accelerazione relativa non è possibile non basta è troppo rumoroso e quindi ci siamo rapidamente inventati un trucco il trucco consiste nel mettere all'interno del satellite delle masse dei corpi liberi fluttuanti nel satellite cosa che si può fare nello spazio vedete le l'astronata che mette queste palline siete in assenza di peso perché tutto sta cadendo insieme quindi la massa rimane libera dentro e siccome dentro il satellite non prende l'illuminazione solare e non è disturbata dal sole ovviamente i satelliti sono disturbati dal sole per cui si agita intorno alla massa quindi bisogna fare un trucco bisogna misurare dove sta la massa e accendere dei razzetti per tenere il satellite centrato sulla massa in modo da non disturbarla ma se riuscite a fare questo che si chiama navigazione drag free se tenete il satellite centrata intorno alla massa la massa se ne va indisturbata o molto poco disturbata certamente non disturbata dal sole e siccome poi voi misurate l'accelerazione del satellite rispetto alla massa perché se no non sapete dove sta la massa potete correggere la misura satellite satellite levando l'effetto dell'accelerazione del satellite rispetto al sistema inerziale cioè rispetto alle masse di prova ovviamente rimane un po di disturbo se qualcosa disturba le masse di prova e qualcosa disturba le masse di prova io mi guadagno il pane così combattendo questo ma è sostanzialmente come se i satelliti non ci fossero e voi fosse riuscite a creare due massa di prova non disturbate dal sole e misuraste l'accelerazione relativa che è il vostro detector ideale questo è il trucco fondamentale di lisa richiede uno strumento in realtà ogni estremità di questi facci laser c'è uno strumento lo strumento ve lo faccio vedere qui è fatto c'è la massa di prova che dentro questa scatola sta diciamo in volo e qua ci sono vari millimetri tutto intorno non tocca niente ed è circondata di elettrodi perché un po di forze le dobbiamo esercitare teoricamente non dovremmo fare niente però insomma in certe direzioni bisogna esercitare un po di forze poi ci sono un'enorme quantità di accessori vi darò un po più di dettagli dopo poi c'è un banco ottico che vi faccio vedere una foto fra un attimo in cui ci siede tutte le componenti ottiche per fare le misure di frequenza una per fare la misura di accelerazione del satellite rispetto alla massa di prova e poi la parte per fare la misura di accelerazione dei due satelliti uno rispetto all'altro i due satelliti si scambiano la luce attraverso dei telescopi questo telescopio non serve a guardare le stelle serve a scambiare la luce con i satelliti e questo è il complemento il banco ottico è questa cosa qui è una costruzione qua ne vedete un prototipo durante un assemblaggio è una costruzione con questa tecnica sofisticatissima per cui uno può appiccicare due pezzi di vetro con della soda caustica e si riforma il materiale originario come se avesse lavorato dal pieno è un oggetto molto complicato questo quello che vedete 30 centimetri di diametro e questo è l'equivalente delle grandi delle grandi camere all'estremità del tubo di laico quindi i palazzi sulla terra vengono sostituiti da 30 centimetri di roba molto molto impacchettata e se volete un'immagine di com'è il tutto ogni satellite contiene due di questi strumenti che fanno parte di due bracci contigui e qua vedete un'animazione un po' vecchia ma che fa vedere la luce che viene raccolta dal telescopio una parte della luce raggiunge la massa di prova che sta qua dentro e diciamo si fa tutta la misura dunque perché come siamo messi dunque perché se si vuole andare a bassa frequenza cerco di darvi una spiegazione rapida allora la stragrande maggioranza dei sorgenti onde gravitazionali sono due oggetti che girano l'uno intorno all'altro quello che si chiama un sistema binario buchi neri stelle neutroni stelle normali eccetera la frequenza dell'onda questa vi dovete fidare il cartoon cerca di rappresentarlo la frequenza dell'onda è il doppio della frequenza di rivoluzione quindi più lentamente i corpi girano l'uno intorno all'altro più è lenta la frequenza dell'onda allora non so se vi ricordate che plero cosa diceva che plero scopri che più sei lontano che più due corpi sono lontani più lentamente girano uno intorno all'altro la terra gira molto velocemente ci mette un anno a fare un giro intorno al sole giove se ne mette 10 mi pare speriamo che non vedete la sciacchezza quindi se prendete due corpi lontani girano lentamente e quindi emettono onde gravitazionali lente questo è il primo fatto secondo fatto la vista Einstein se voi mettete la materia in un posto è creato un corpo celeste e le dimensioni minime c'è una distanza minima un size minima di questo corpo che è una funzione solo la massa le cose più compatte sono i buchi neri in cui il corpo è grande quanto questo numero che dipende solo dalla massa che si chiama il raggio di sfarsili il che significa che un corpo molto massiccio è anche molto grande e allora se ne dovete mettere due a girare uno intorno all'altro non si possono avvicinare più delle loro dimensioni il che significa che un sistema binario di due corpi molto grandi gira molto lentamente oppure un sistema binario di due corpi anche piccoli ma molto separati gira molto lentamente e quindi se volete vedere questo tipo di sorgenti bisogna che andate a bassa frequenza che cosa vedete per esempio vi mostrerò fra un attimo le collisioni di galassie con i loro buchi neri supermassicci periodi dell'onda minuti e ore dimensioni dimensioni della masse coinvolte decine di milioni di volte la massa del sole oppure oggetti nella nostra galassia o anche gli stessi buchi neri visti da virgo e largo ma molti anni prima che collassino quando sono molto separati la sorgente grande milioni di chilometri le separazioni a milioni di chilometri e le onde emesse sono quelle nella banda di frequenza divisa allora i buchi neri all'inter al centro della galassia e tutto bene se in paolo mi seguite molto bene allora quella l'animazione che vedete adesso sono fotografie del centro della nostra galassia prese a mesi di distanza e quello che vedete sono le stelle che girano intorno a un oggetto che non si vede questo oggetto che non si vede è un buco nero di alcuni milioni di volte la massa del sole e noi oggi sappiamo che tutte le galassie hanno questo buco nero al centro almeno la stragrandissima maggioranza allora quando hubble vede due galassie interagire gravitazionalmente quello che sta in realtà vedendo e sono i due buchi neri al centro delle due galassie che cominciano che quando arrivano abbastanza vicine cominciano a tirarsi e formano un sistema binario come quello di laico ma un milione di volte più grande che emette onde gravitazionali e per darvi un'idea della scala l'energia emessa da un oggetto del genere durante tutto il tempo in cui lui emette è più grande di tutta l'energia emessa sotto forma di luce o di onde elettromagnetiche dell'intero universo cioè sono dei veri gott damerung cosmici se questo è il segnale che virgo ha visto a settembre 2015 il segnale calcolato che lisa dovrebbe vedere per uno di questi oggetti semplicemente con due buchi neri da un milione di masse solari sono segnali intensissimi questo non c'è nessun filtro miracoloso questi sono solo i dati filtrati per poterli mandare al suolo e per di più questo oggetto si vedrà a qualunque distanza avviene perché è talmente intenso che anche se è avvenuto pochi istanti dopo il big bang è visibile quindi è un'astronomia degli oggetti enormi a distanza enorme e per esempio la gente pensa che siccome questi oggetti ruotano sempre più velocemente man mano che cadono uno nell'altro prima o poi la loro frequenza entra nella banda di lisa questa questa è la banda dove lisa è sensibile e quindi un mese prima del collasso finale entrano ci stanno un intero mese poi c'è un collasso finale e quindi qualunque di questi buchi neri prima o poi lisa lo vede il che significa che nei pochi anni che lisa sta su vedrà il formarsi di un unico buco nero da due buchi neri sempre più lontani e quindi fa una specie di stratigrafia di come si sono formate le galassie per collisione fra due galassie a formare una galassia più grande dei loro due buchi neri a formare un buco nero più grande non entro nei dettagli la gente spera così di dire come sono nati i buchi neri iniziali che nessuno sa credo di dover accelerare un altro sistema che lisa dovrebbe riuscire a vedere è un piccolo oggetto compatto che cade in un buco nero al centro delle galassie queste sono le traiettorie delle stelle che vi vedevo che vi mostravo prima se un oggetto è molto compatto riesce avvicinarsi alla stella scena al buco nero centrale molto vicino e ci manda un segnale per centinaia di migliaia di ore sentite l'audio questo è il segnale gravitazionale accelerato e trasformato in un la caratteristica fondamentale una caratteristica fondamentale questo fatto finale cioè cessa improvvisamente perché l'oggetto è entrato in questa superficie che si chiama l'orizzonte degli eventi che ci che c'è con da un buco nero e da cui non esce niente e quindi questo è una specie di prospezione gravitazionale quello che questo segnale farà è una specie di prospezione gravitazionale del buco nero che ci dirà se è un buco nero un vero buco nero eccetera eccetera occorre un poco l'altro estremo sono l'altro estremo della banda di osservazione dell'isola sono le sorgenti che sono cose sono piccole sono quelle di laigo ma sono così ancora separate nelle fasi iniziali della loro orbita che l'onda emessa è molto a frequenza molto bassa e sono due fondamentali tipi le stelle binarie nella nostra galassia quindi sono vicine sono piccole ma sono vicine quindi il segnale intenso e poi gli stessi buchi neri che ha visto l'igo che hanno visto l'aigo virgo ma molti anni prima che li vedono l'aigo virgo cioè se fosse stato se lisa fosse stata su noi avremmo visto per anni il buco nero che poi in un attimo ha visto l'aigo io non ho tempo di parlarvi di questo vi voglio solo dire che l'isola dovrebbe riuscire a distinguere decine di migliaia di stelle binarie nella nostra galassia facendo uno dei più grandi censi di questi tipi di oggetti che siano mai stati fatti in astronomia e alcune di queste sappiamo già tutto nel visibile quindi serviranno a calibrare lo strumento e poi addirittura sono talmente tante che ci sarà una specie di fondo di chiarore di fondo di quelle che non riusciamo a distinguere uno dall'altro gli astronomi hanno aspettative enorme addirittura lisa dovrebbe essere in grado di vedere un pianeta che gira intorno a una di queste binarie nella precisione della misura è così grande che si dovrebbero vedere le binarie dotate di pianeti diciamo i gruppi che lavorano all'isa stanno scrivendo libri su quello che si veda sull'isa non biannoio ma trasformando le onde gravitazionali in suoni questa è una settimana quello che avete sentito il collasso di due grandi buchi neri poi sotto si sentono tutte le altre sorgenti una notte dominata dai suoni dell'universo bene fantastico meraviglioso ma si può fare bella domanda no perché lisa costa dai alla grossa 2 miliardi euro sterline dollari non fa grande differenza prima di investire una cosa del genere la domanda ma sei sicuro che si può fare è legittima e questo ha fatto sì che nonostante che l'esa si sia l'agenzia spaziale europea si sia innamorata di lisa molto presto prima del 2000 molto rapidamente ha detto sentite è bellissimo ma è molto rischioso siamo disposti a spendere un po di soldi una frazione di questi soldi per dimostrare che si può fare con una missione più semplice che non vede le onde gravitazionali ma che si può fare e quindi intorno al 2001 l'agenzia ha deciso di investire in una missione del genere a cui che ha subito preso un nome lisa pathfinder e nel 2004 addirittura la missione è stata adottata e si è cominciato a costruire la strumentazione del satellite adesso vi racconto un poco di lisa pathfinder che cos'è che si deve dimostrare che cos'è che metteva molto in ansia l'agenzia spaziale europea allora voi dovete misurare l'accelerazione di due masse di prova creata da un'onda gravitazionale e che ne sapete che è un'onda gravitazionale non è stata qualcos'altro per esempio in questo cartoon sono molecole giganti che urtano le due masse di prova e gli danno esattamente le stesse accelerazioni che gli dava prima la deformazione dello spazio tempo quanto devono essere tranquille cioè quanto io devo essere sicuro che non ci sono disturbi allora non siamo gli unici che hanno bisogno di mettere le cose in orbita senza disturbi per esempio il gps ha lo stesso problema deve mettere le cose in orbita prive di disturbi che sono 10 picco g allora g è l'accelerazione del telefonino che cade sulla superficie terrestre 10 metri al secondo al quadrato pico vuol dire un miliardesimo quindi un gps deve fare il satellite si deve muovere senza disturbi che gli diano accelerazione più di 10 picco g di 10 volte un miliardesimo dell'accelerazione terrestre missioni più sofisticate di gravimetria devono stare dieci volte meglio lisa deve stare centomila volte meglio di un satellite gps non c'è modo di provare che puoi abolire disturbi di forza su una massa di prova a questo livello in un laboratorio terrestre la ragione è il peso diciamo non la puoi lasciare libera ti cade sui piedi lo puoi fare un po nel moto orizzontale che è quello che fa l'aigo in orizzontale sono libere ma non a questi livelli e non a questa frequenza tuttavia per fare una dimostrazione in orbita che riesce a fare delle masse così tranquille non hai bisogno che siano separate da un milione di chilometri puoi prenderle tutte e due e metterle in un satellite e guardare se stanno se sei capace di creare un ambiente in cui le due stanno ferme una rispetto all'altra al livello che ti serve e questo è lisa pathfinder cioè prendi il tuo complemento con la massa di prova leva il telescopio e metteci una seconda massa di prova e misura l'accelerazione fra queste due masse di prova e questa è l'idea di lisa pathfinder cioè mette nello stesso satellite due masse di prova metteci due interferometri che uno serve a misurare l'accelerazione relativa delle due masse di prova l'altro serve a fare quel trucco fondamentale cioè misurare dove sta il satellite e accendere i razzetti per evitare che collida con questa massa di prova qui purtroppo al contrario di lisa qua ce ne sono due nello stesso satellite non le puoi seguire indipendentemente tutte e due e quindi siamo costretti a spingere benevolmente una delle due perché non se ne vada fuori dal satellite questo costa peggiora il test ma avevamo calcolato che non era poi così terribile quindi il test si poteva fare quindi se volete vedere come è fatto l'hardware queste sono le due masse di prova oro platino 5 centimetri due chili perché molto denso l'oro platino molto puro molto non magnetico un banco ottico di questo speciale vetro che porta tutti gli interferometri tutte le componenti ottiche per fare gli interferometri e poi un altro po di trucchi per esempio tutti gli elettrodi famosi che servono a esercitare un po di pressione sulla un po di forza sulla massa questo lo dobbiamo fare in lisa comunque ma in lisa fat finder a maggior ragione dobbiamo fare anche la forza in questa direzione qua le masse si continuano non c'è un filo di terra perché sono sospese quindi arrivano raggi cosmici le caricano le dobbiamo scaricare e quindi ci dobbiamo portare della luce ultravioletta che estrae gli elettroni da dove ti pare e riesce a neutralizzare le masse di prova poi se voi mettete due chili di oro platino con quattro millimetri per parte e lanciate il missile lo scuotimento è tale che bucate il satellite e quindi vanno bloccate al lancio con una forza vicina ad una tonnellata e poi messe in orbita con quella precisione di cui parlavamo e per di più il tutto è chiuso in una camera da vuoto perché devi poter fare il vuoto a terra poi aprirai verso il vuoto esterno quando sei in orbita ma tutto questo oggetto viene chiuso in un scatolone e stava al centro di un satellite completamente dedicato al test il satellite era dedicato all'isabat finder queste sono foto del vero hardware la massa di prova in oro platino con un po di cose per il meccanismo di bloccaggio la scatola che porta gli elettrodi il tutto è chiuso da una camera da vuoto e by the way la massa di prova è comunque lo specchio finale di un sistema ottico e quindi l'integrazione di questo oggetto è stata fatta a precisioni di micron o milliradianti e diciamo tutto è stato fatto da un'industria italiana che ha diciamo ci ha coperto di gloria questo è il banco ottico un altro gioiello per metterlo insieme c'è questa tecnica in cui bagnate le due parti con della soda caustica il vetro si riforma come se fosse stato fatto dal pieno però dovete allineare queste componenti a micron di precisione avete solo qualche minuto poi l'oggetto si consolida e se voi avete sbagliato buttate via mesi di lavoro non hanno mai sbagliato inutile dire è stata una cosa fantastica anche questo allineato con micron e milliradianti di precisione questo è l'oggetto tutto montato la prima volta che l'ho visto e ho pensato non funzionerà mai è troppo complicato invece ha funzionato brillantemente come vi farò vedere che va a imperitura gloria dell'industria aero spaziale europea che è capace di fare cose così complesse rimanendo completamente in controllo di quello che farà qua sono un po' di immagini dell'oggetto chiuso nella scatola e calato dal satellite il satellite è stato messo sul suo modulo di propulsione è lanciato con un lanciatore italiano ma commercializzato a Ryan Spass che è il Vega l'abbiamo lanciato quasi in contemporanea alla scoperta delle onde gravitazionali a dicembre del 2015 poi abbiamo dovuto passare un poco più di un mesetto per andare alla nostra orbita finale che era un'orbita interplanetaria perché la Terra è sorgente di disturbi troppo forte abbiamo viaggiato un mesetto accendendo gli strumenti e vi devo dire che per uno che non aveva esperienza di spazio vedere gli strumenti che si accendono è una grande cosa un evento fondamentale è stato dopo circa due mesi dal lancio è stato sbloccare le masse di prova perché se non funzionava quello la missione era perduta e quindi era una specie di seconda campagna di lancio lì vedete qui vedete il tracciato della posizione della massa di prova che va in sospensione questa è una prima mondiale e qui vedete il mio project manager che in genere è un tipo compassato che non ride mai con un sollievo infinito perché come dicevo se questa non funzionava la missione non c'era allora brevissimamente cerco di chiudere dicendo cosa dobbiamo fare e che cosa siamo riusciti a fare allora questi sono i requisiti di accelerazione di lisa adesso vi accompagno allora delta G è l'accelerazione fra le due masse di prova questo è quello che si chiama uno spettro di potenza sostanzialmente è un numero che è proporzionale all'ampiezza del più piccolo segnale che potete rivelare quindi il più siete bassi in questo grafico meglio state vuol dire che c'è meno rumore per darvi un'idea questa è sono l'accelerazione in metri secondo al quadrato la terra è 10 questo è uno diviso uno seguito da 15 zeri sono un milione è un milionesimo di miliardesimo dell'accelerazione di gravità terrestre questa è quello questa è la scala perché lisa funzioni bisogna dimostrare che si fanno accelerazioni sotto questa linea gialla più piccole di quella linea gialla se no lisa comincia a non funzionare funziona sempre peggio eccetera la scala è logaritmica cioè vuol dire che ogni tacca è o 10 volte peggio o 10 volte meglio quindi se andate da qua a qua state facendo 10 volte peggio se andate da qua a qua state facendo 10 volte meglio cosa dovevamo ah sì questa è la frequenza quindi questo questo diciamo questa è l'accelerazione vi potete permettere alla frequenza di 10 alla meno 5 per darvi un'idea come vi ho detto prima questo è un periodo di un giorno questo è un periodo di un ora questo è un periodo di un secondo quindi questo è quello che dovremmo fare questo è quello che deve avere lisa l'esa ci ha guardato negli occhi ha detto poveretti questi non gli possiamo chiedere dimostrare questo ci accontentiamo se state 10 volte peggio quindi ci accontentiamo se invece stare sotto la linea gialla state sotto la linea blu per di più siccome testare gli strumenti alle bassissime frequenze costa un sacco di soldi perché ci mettete del tempo dimostracelo sopra un millesimo di hertz dimostracelo per onde di da mille secondi e sotto ci fidiamo quindi noi dovevamo solo stare dovevamo dimostrare le nostre cose qui sotto dovremmo misurare ma non c'erano richieste va bene cosa ci aspettavamo allora ci aspettavamo questo uno questa maledetta cosa che dovremmo esercitare un po di forza elettrica su una delle due masse perché non potevamo seguire tutte e due col satellite quando esercitate una forza elettrica se il generatore di tensione elettrica è rumoroso la forza è rumorosa e si dimostra che se voi alzate la regolazione per esercitare una grande forza a parità di rumore del generatore fate più rumore in forza un po quando siete sotto molto sforzo tremate molto questa era una la seconda anche una cosa su cui ha lavorato einstein se avete un po di molecole di gas intorno alla vostra massa di prova noi le leviamo quanto possiamo ma un po rimangono pressioni molto basse ma c'è le collisioni delle molecole della massa di prova le molecole che collinano la massa di prova accelerano la massa di prova fanno abbastanza rumore terza ultima è che comunque sia anche se le masse stanno ferme voi misurate l'accelerazione relativa il vostro misuratore di accelerazione rumoroso e qualche cosa farà i calcoli dicevano che a bassa frequenza saremmo stati limitati dal rumore elettrico qua al centro dalla collisione delle molecole e qui dall'interferometro siamo andati in misura il primo giorno e a bassa frequenza l'abbiamo trovato in accordo con le previsioni molto più importante e molto meglio di quello che c'era stato richiesto l'unico posto dove non abbiamo beccato la previsione è stata ad alta frequenza perché l'interferometro ha funzionato 300 volte meglio di quello che avevamo riusciti a dimostrare al suolo e quindi la cosa funzionava così e non ho il tempo di entrare nei dettagli ma insomma questo ha già di per sé un grandissimo successo questo è il primo interferometro di questo tipo che vola e quindi qua siamo tutti contenti questa è la previsione del rumore elettrico ma ma perché dobbiamo fare tutto questo rumore elettrico sicuro che abbiamo bisogno di tutta questa forza perché avevamo bisogno di esercitare questa forza la ragione fondamentale è che questo pezzo di materia qua tira questa massa verso qui e viceversa se non fate niente questa parte e in pochi secondi urta la cassa in questa e addio missione allora come facciamo a contrastare questo beh non lo possiamo fare tutto elettricamente perché ci vorrebbe troppa forza quindi registriamo e registriamo ogni componente del satellite calcoliamo il campo gravitazionale e lo compensiamo con una massa di circa un chilo e otto di tungsteno che è molto denso quindi quindi noi cerchiamo di cancellarlo il campo gravitazionale così che non abbiamo bisogno di applicare forze però siccome questo è un calcolo il calcolo è affetto da errori noi calcoliamo siamo a la posizione delle singole viti e la massa delle singole viti il nostro calcolo diceva che la nostra incertezza era g preceduta da 10 0 e poi un 7 e quindi noi avevamo regolato la forza per poter compensare più o meno questa un numero casuale ma dovevamo poterlo compensare altrimenti la massa partiva ruttava siamo andati su e abbiamo scoperto che avevamo fatto meglio di un fattore 30 avevamo fatto 30 volte meglio di quanto pensavamo pessimisticamente perché dovete essere pessimisti in questo gioco di aver fatto e allora ci siamo precipitati ad abbassare la regolazione come abbiamo abbassato la regolazione il rumore è migliorato ricordatevi in giusi migliora il rumore è migliorato di un fattore 10 e abbiamo fatto la prima pagina del fisica rulletters e abbiamo fatto anche la prima pagina della bbc che ci ha seguito sin dagli alburi notate che in questa immagine è calata non solo il rumore dovuto al disturbo elettrico ma anche quello che era dovuto alla famosa urtico le molecole la ragione è che siccome quando siamo arrivati in orbita abbiamo aperto il rubinetto e usiamo lo spazio interplanetario come pompa la pressione intorno alla massa di prova ha cominciato a calare è calata durante tutta la missione la pressione la potete leggere qua qua ci sono c'è il tempo questo in realtà è proprio quel plateau di rumore che va giù e quindi quando abbiamo fatto le ultime misure che pure abbiamo preso la prima pagina bbc siamo riusciti ad aprile la pressione a febbraio del 2017 la pressione era calata talmente che come vedete tutti i puntini blu sono sotto la linea gialla di lisa e quindi noi abbiamo dimostrato con margine che lisa era fattibile ma se volete avere un'idea questa è un'animazione dell'accelerazione che darebbe alle due masse di prova di lisa un buco nero un collasso di due buchi neri di un milione di masse solari e il rosso è il disturbo misurato da lisa watt finder nelle stesse scale vici ma come un disturbo io vedo una linea rossa se se ingrandisce vedi un po di disturbo e questo vi dà l'idea del rapporto segnale rumore che lisa dovrebbe raggiungere avendo dimostrato questa performance ve la faccio a breve non avevamo ancora finito la missione che l'esa il comitato top dell'esa ha deciso di di fare lisa e quindi di partire con lisa questo è quello che aspettavano come vedete la bbc ci dà una copertura 24 7 e quindi nel 2017 siamo partiti con lisa è stata selezionata per diventare la terza grande missione del programma scientifico attuale che si chiama cosmic vision e è partita la fase a che lo studio iniziale abbiamo fatto questo studio iniziale in realtà lisa ha molto studiata quindi un consolidamento dello studio iniziale abbiamo passato la prima review con flying core come si dice siamo adesso nella cosiddetta fase b1 che la fase di consolidamento finale prima di un passaggio fondamentale che si chiama l'adozione l'adozione quando l'esa adotta lisa firma un contratto multi centomilionario con un contractor industriale per fare la missione quindi è un passo molto molto impegnativo che va fatto con cura le cose stanno andando così bene che dovevamo fare la review per l'adozione alla fine del 23 e invece l'esa la vuole anticipare diciamo nell'estate autunno del 23 per poter fare l'adozione alla fine del 23 e partire col contratto nel 24 tutto questo c'è uno studio industriale che noi seguiamo ma purtroppo lo studio per per mantenere concorrenza fra i grandi fra le grandi industrie aerospaziali l'esa da due contratti in competizione per questi studi la conseguenza che io non vi posso far vedere niente perché è coperto dal dal segreto industriale ma lisa è un concetto molto molto maturo e diciamo non è che ci sono sono più dettagli che non vi interesserebbero intanto si sta sviluppando la tecnologia vi do solo un esempio questo è il famoso banco ottico di lisa pathfinder e e ciò un time lapse di come i miei colleghi di glasgow l'hanno costruito vedete questa è l'installazione di un'unica componente il il banco ottico di lisa di lisa è molto più complesso del banco ottico lisa pathfinder anche se recentemente era arrivata ad avere due tre volte e mezzo le componenti del banco ottico lisa pathfinder adesso siamo a una volta e mezzo le componenti ma ne dobbiamo fare sei di questi banchi ottici questa cosa non si può fare a mano e quindi una uno degli sviluppi tecnologici è l'automazione la robotizzazione della costruzione del banco ottico di lisa ce ne sono tante non ho il tempo lisa è fatta come vi dicevo da un consorzio fra l'esa e i suoi paesi membri grazie ai successi lisa pathfinder l'italia si è guadagnata il settore la leadership del settore di come si mettono le masse di prova in caduta libera la germania guida grosso numero stati europei nel fare la metodologia ottica ci sono alcuni ruoli la francia fa tutto il testing di quest'ottica a terra che di per sé una scienza la spagna fra i controlli il monitoring diagnostico e ovviamente l'esa fa il resto del satellite eccetera e la nasa fa un grosso pezzo che vi mostro nella prossima trasparenza gli scienziati che lavorano all'isa o al suo sfruttamento sono oramai alcune insomma si avvicinano al paio di migliaia sono riuniti in un consorzio è un ambiente estremamente stimolante c'è gente dai 20 anni ai 97 come me e diciamo come dicevo la nasa che ha una partecipazione junior non è l'agenzia leader però fornisce delle cose importanti fornisce il laser fornisce i telescopi per i satelliti e fornisce anche su disegno europeo ma fornisce il sistema per scaricare le masse pro che ci crediate o no non siamo gli unici che tentano di sviluppare una missione così anzi noi la stiamo sviluppando i cinesi vogliono farne una che sarebbe fantastico perché se avessimo due lisa potremmo fare la rivelazione congiunta che aumenta enormemente il potenziale osservativo purtroppo i nostri colleghi cinesi sono un po più indietro di noi quindi quanto sia realistico questo non è chiaro ma sono determinati a fare una missione di questo tipo e siccome bisogna guardare avanti l'esa anche recentemente fatto uno studio di quello che vuole fare dopo intorno al 2050 e fra le cose che vuole fare c'è anche una missione di onda gravitazionale e io con questo finirei che spero di non essere stato troppo lungo e vi ringrazio l'attenzione grazie davvero Stefano è stato come come aspettavo entusiasmante e a questo punto ci abbiamo qualche minuto se ci sono delle curiosità delle domande da fare al professor vitale io vedo dei nomi conosciuti senti per rompere il ghiaccio mi viene da chiederti lisa farà un lavoro spettacolare e ci hai fatto vedere quante si sinta e quante sorgenti riuscirà ad osservare e mi sto chiedendo se non sono troppe cioè se il la confusione dovuta che arrivano insieme insomma quindi ci sono delle strategie furbe per separarle però si può dire qualcosa di più si è affascinante non ho una trasparenza forse se la posso cercare però è affascinante perché in realtà il la teoria dell'analisi dati oramai sai che oramai si fa tutto bayesiano cioè si fa e praticamente ai dati di lisa si fa un fit con tutte le sorgenti simultaneamente non c'è nessun altro modo di farlo il calcolo è che il fit è fattibile ci sono praticamente centinaia di persone che ci lavorano a preparare questo gigantesco fit ai dati con tutte le sorgenti fatto sta che rimarrà un'ambiguità per esempio rimane il fondo di binarie galattiche che non sono discernibile lisa misura per un paio d'anni la risoluzione sono frazioni di microse se due segnali sono più vicini di una frazione di microse non li puoi vedere quindi è un e da molti anni facciamo quello che si chiama un data challenge cioè c'è un gruppo che prepara dati simulati sempre più complicati e poi ci si può iscrivere liberamente e gruppi che cercano di riestrare le sorgenti e devo dire con buon successo per lo stadio di sviluppo della cosa ma è certamente una è certamente un problema sai che la stima bayesiana e le intelligenze artificiali sono molto parenti quindi è un problema di intelligenza artificiale elaborare i dati risa comunque sembra sotto controllo bene non avevo dubbi però evidentemente non è banale non è banale per niente ed è un argomento affascinante di ricerca di per sé una domanda siamo un po in ritardo nella nostra scaletta ma se c'è un'altra domanda è benvenuta posso sono ginevra ciao ciao allora no la cosa che mi incuriosisce c'è pazzesco ma la cosa che mi incuriosisce è si riesce anche a capire la direzione di provenienza di queste sì sì che adesso il la cosa che che era che era pazzesca è quando sono riusciti a identificare la chilo nova nel 2017 quello che era sarà altrettanto possibile sì sì no è meglio lisa perché le sorgenti sono più lunghe e durano di più e lo strumento ruota e questo che ti fa identificare la sorgente quindi quindi fai la triangolazione c'è su te stesso insomma ok non è cioè rispetto a quello che fate voi è da ridere ma le più intense sono un minuto d'arco il che significa per esempio per gli studi cosmologici per identificare la galassia da cui viene hai bisogno d'aiuto o hai bisogno di un fit adesso si è mostrato che si riesce a fare un fit statistico a alle galassie però se non hai un fit statistico e puoi sapere puoi associare una controparte elettromagnetica alla sorgente e diciamo il pezzo di cellule devi guardare grande perché è un minuto d'arco per le più intense per le meno intense è peggio ovviamente perché scala con il rapporto segnale rumore però sono sorgenti che non scompaiono cioè alcune sì i buchi nei supermastici diciamo quelli più lunghi li guardi per mesi e poi scomparono eh ho capito però c'hai mesi sì e quelli più leggeri quelli più leggeri hai una settimana rispetto in qualche secondo della invece le le binarie galattiche forever and ever and ever quelle stanno lì il rapporto segnale rumore non è enorme però diciamo si dovrebbe vedere parecchio peccato che che sarà fra vent'anni sì ma insomma noi siamo giovani no invito al lancio io 83 anni quindi ti posso invitare io ne avrò circa anch'io penso che io ho lavorato al lancio cos'è 24 34 34 34 e 34 quindi sono fra 12 anni 80 e pensa che io ho partecipato a voyage 2050 cioè il lavoro dell'esa per vedere cosa facciamo nel 2050 e ho sempre detto ho molto apprezzato che non l'abbiate chiamate che è il mio centesimo compleanno benissimo va bene allora aspetto l'invito abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione ringraziamo moltissimo Stefano Vitale e ricordo che domani abbiamo l'ultima conferenza di questa serie con Giovanna Tinetti che ci parlerà di pianeti extra solari salutate arrivederci a tutti ciao Stefano grazie ancora ciao ciao